Xelium Pro è il prodotto che abbiamo sviluppato per la formazione manageriale e il grosso punto di forza è quello di consentire una formazione personalizzata e quindi aiutare i manager a acquisire le loro competenze in maniera che non sia frustrante né troppo banale per cui riuscire a dare loro quel contesto che gli specialisti chiamano un'area di apprendimento prossimale cioè vicino a quello che loro già sanno ma un po' più avanti e questo viene in un contesto che è quello digitale, quello del gioco digitale insieme al formatore che diventa un mediatore. Perché digitale? Digitale perché ci consente appunto con l'intelligenza artificiale di personalizzare il percorso e l'esperienza che i partecipanti fanno e con il mediatore che è la figura importantissima perché nel momento in cui noi creiamo artificialmente con il gioco le situazioni in cui i partecipanti non ce la fanno più a risolvere le sfide che il gioco dà ecco che interviene il mediatore o chiamalo un formatore proponendo delle strategie. Questo è un momento importante perché qui le persone che vogliono superare questo ostacolo di non riuscire più ad andare avanti ascoltano, apprendono queste strategie, le provano, verificano che funzionano e il mediatore si chiama proprio così perché media il passaggio, fa un ponte tra il mondo del gioco e la realtà lavorativa o anche personale dei partecipanti. Quindi le persone che partecipano alla nostra formazione acquisiscono delle strumentazioni che diventano patrimonio personale. Non è legato solamente a una specifica professionalità ma sono delle competenze importanti di base che consentono a loro di lavorare in azienda per collaborare o per competere, per prendere decisioni o per pianificare quello che loro devono fare. Riuscire anche ad avere la consapevolezza del loro ruolo all'interno del loro contesto, nella loro comunità in cui lavorano e in cui vivono.